Ok ragazzi, bentornati su Quei Due Sui Server Trash con The Last Campfire. Questo gameplay sarà un po' più corto degli altri, 20 minuti, perché io tra 20 minuti devo uscire di casa. Però voglio farmi ancora una partitina. Molto semplice, entriamo qui e risolviamo questo enigma che spero si possa risolvere in una ventina di minuti. Scelte di composizione. Allora, non mi dispiacerebbe una visione un po' più completa di questa situazione. Ecco, da così si vede un po' meglio. Devo arrivare lì. Ok. Ok. Uhhh. 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 Allora. comincia a diventare un po' complicatella sta cosa allora come faccio Dio Bono a portare questo allora non si muove nulla tutto rimane fermo lì dov'è direi che l'anello debole di tutto questo discorso è questa parte alta di qua senza dubbio proprio quindi cominciamo da qui guardiamoci intorno un po' meglio non vorrei che ci fosse qualcosa di nascosto un altro cubo ma comunque sia cubo o non cubo la situazione non è delle migliori qui cioè una volta che io scendo come faccio a recuperarmi diciamo che voglio tirar su un cubo fin lì non posso non posso fisicamente l'unica è che cazzo questa ok quello te lo premo volentieri poi per ora e adesso e adesso dio bonino vediamo una cosa io non vorrei fosse questo è il punto ma merda come ci torno lì senza fare un disastro eh da qui non si sale più ma ma eh no non si può più eh io dovrei cioè nel senso ho quasi fatto ma non posso salire qui questi due sono piazzati calmi 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 no ma comunque non ci siamo comunque non ci arrivo come cazzo devo fare questa cosa è troppo alto dai cavolo questo è questo c'è penso sia il più più difficile questo diciamo così risettiamo perché credo che risettando si capisca meglio la situazione ho fatto bene a fare questa cosa che si può volendo tornare indietro e ripetere allora Allora Vediamo una cosa Sì, 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 sì L'ho capito a te Allora, dobbiamo andare in ordine di... Allora, raga Che bordello Mi devo togliere da qui però Sennò do fastidio Poi Preoccupiamoci di questo No Beh, ma non abbiamo bisogno di fare tutto questo casino però, mi sa Sì, perché basta fare così E fottiti in culo Qui dobbiamo riuscire a salire con l'ausilio di due soli cubi Che non è un problema grosso Un solo cubo Eh, ho fatto bene a resettare, raga Perché avevo incasinato un po' troppo le cose Ho prima, diciamo così, inquadrato l'ordine delle cose Vabbè, ma se non avessi fatto quelle prove all'inizio non avrei mai realizzato l'ordine corretto Certo che viene anche da sé che ci vogliono più blocchi per arrivare più in alto Però non è una cosa che la capisci subito, subito a livello razionale Io perlomeno, eh Io non ho assolutamente una mente razionale Sono un po' più sul pirlandante Mi riprenderò, promesso, ok Ah, e anche questa è fatta Stiamo pian pianino dipanando tutte le situazioni qui Teranocchia, adesso abbiamo capito dove vanno Sto augello che mi guida E si va là, poi si bagga Gliccia sul muretto E stop Mi viene da pensare a Ghost of Tsushima con gli augelli che ti guidano Ma, eh Non so verso cosa guidi questo augello qui Dammi del cibo Vabbè, questo vuole mangiare Chiaro che vuole la pappa Ma poi gli diamo questo Però vuole qualcosa con più energia Come gliela do l'energia a sto stronzo Ah, vedi, vedi Questo già glielo ho dato Quindi lui è anche È anche viziato sto stronzo Gli volevo dare una cosa così per ingannare l'attesa Nell'attesa ti mangi il coso Non posso fare niente con questo Oh, eppure in un paio di punti le scale le ho spostate By hand proprio A manina santa E niente Torniamo qua sotto Perché Onestamente mi è rimasto un po' sul groppone In questa situazione Non si può salire qui No, questa zona non si può esplorare Perché neanche la camera si può muovere tanto liberamente Raga, vi giuro che non capisco a che cosa possono servire quelle due cose Vi giuro che non lo so Ci sono due blocchi così a buffo Qua per terra c'è una pavimentazione strana, eh Ma non è che mi suggerisca chissà quale strategia Poi il fatto che questi cosi Ma non ha senso Ma non ha senso Aspetta, aspetta, aspetta Non capisco il senso Perché? Cioè perché mettendo questo qui E questo qui si è aperta la porta Ragazzi, brancolo nel buio Vi giuro Brancolo nel buio Vabbè, comunque Mi sono tolto il pensiero Cioè quella parte era Questa stronzata qui Io devo arrivare Eh no, ma per passare lì Devo assolutamente scalzare il simpatico porcello Torniamo Verso la strada principale Odio, principale Qui sono tutte principali e tutte secondarie Le strade Il principale Nel senso che Quella che Mi sembra la più importante Facciamoci venire qualche guizzo Qualche invenzione Per il momento siamo totalmente bloccati Ma io direi di andare da questa parte Qui ci siamo stati poco Relativamente poco Ci siamo venuti a prendere un ranocchio Per il momento ma facciamo così e qua non c'è nulla di che sotto non c'è nulla di che purtroppo qua sotto non riesco a vedere nulla di interessante l'importante di sicuro qui ok posso fare una roba tipo questa ok questo ponte mi permette di passare da questo lato e anche io posso passare da questo lato oh qualcosa chiama questo posto non è casa traccio una mappa nella mia mente recitando gli antichi miti devo andare avanti sì comunque è molto No Man's Sky il modo in cui sono scritti sti cosi eh sembrano davvero i monoliti salcazzi e paparazzi vuoi vedere che mi devo portare dietro sto coso non lo posso far uscire da quest'area ok vabbè però ci siamo tolti una volta per tutte il dubbio abbiamo ripristinato anche la posizione di questo simpatico blocco niente non serve a molto muovere il blocco volevo avvicinarlo al golem ma non non sembra produrre particolari effetti no ma qui è tutto è tutto finito bene o male non c'è nulla da esplorare che non abbia già esplorato abbondantemente ciò si c'è la la conchiglietta ma che ci faccio con la conchiglietta c'è un paio di coglioni con la conchiglietta magari però adesso è cambiato qualcosa chi lo sa possiamo andare a controllare non mi pare di avere nell'inventario qualcosa che possa interagire con la conchiglietta ma magari sono già finiti i 20 minuti ragazzi incredibile no niente beh ragazzi noi ci vediamo al prossimo gameplay sempre qui su Last Campfire sono passati 20 minuti in un lampo davvero in un lampo alla prossima